I miei genitori sono molto religiosi si sono conosciuti a 15 anni e si sono sposati a 26 e in tutto questo tempo sono rimasti vergini perché per loro era molto importante arrivare vergini al matrimonio dai 15 ai 26 anni 30 anni cioè lo so sono 11 ma percepiti sentite anche voi questa domanda nell'aria perché chi ve l'ha fatto fare cioè arrivare vergine al matrimonio è una follia ok poi il primo anno ce la puoi fare il secondo anno ce la puoi fare poi a 18 anni ti chiedono di non fare quello a cui pensi 24 ore su 24 tutti i giorni è letteralmente un'agonia e i miei ce l'hanno fatta sono arrivato fino ai 26 anni si sono sposati poi hanno fatto l'amore e hanno avuto sei figli tutti insieme di un botto unico perché a mio padre sono usciti gli spermatozoi che teneva rinchiusi dalla prima erezione dopo dieci lunghissimi anni di prigionia cattolica incazzati neri sono usciti con la stessa foga di un esercito di crociati andavano verso l'ovulo come se fosse gerusalemme gridando è il volere di dio la famosa crociata dei bambini vabbè questa volevo dirla solo per far vedere che ho fatto il classico male però ho fatto il classico si sono presi tutto letteralmente tutto e poi dopo quei 26 anni dopo i 26 anni dopo essersi sposati sono rimasti insieme per 30 anni amandosi e rispettandosi nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia per 30 lunghissimi anni e io sono cresciuto con loro esempio io sono cresciuto guardando i miei genitori pensando io devo fare la stessa cosa devo trovare la mia anima gemella sposarmi sistemarmi e amarla fino alla morte fine e poi a 15 anni è successo l'ho trovata bella bellissima sì una settimana dopo abbiamo fatto l'amore e un mese dopo ci siamo lasciati mamma papà istruzioni poco chiare se posso dire però da lì ho iniziato a farmi delle domande ma chi dice che il sistema che hanno avuto i miei genitori che hanno seguito i miei genitori sia l'unico percorribile se i miei genitori fossero semplicemente strani diversi se io fossi semplicemente diverso dai miei genitori mia nonna mi dice no no davide guarda non funziona così purtroppo è sempre funzionato così cioè dio ha creato ad amo ed eva un uomo e una donna tu devi trovare la tua anima gemella e sistemarti non è vero cara la mia nonna non è vero non ha sempre funzionato così la prima testimonianza di matrimonio l'abbiamo nel codice di amurabi e si dice che il matrimonio è un contratto economico in cui l'uomo compra la donna e in cambio che cosa dà alla sua famiglia delle mucche questo non c'è nei film della disney di solito no nei film della disney è tutto magico incredibile c'è lei che si innamora di lui la tito e stanno insieme per sempre ed è tutto bellissimo se volessimo fare una scena storicamente accurata in un film disney dovremmo vedere il principe che va dal padre della principessa dice mi scusi buon uomo mi sono avanzate due vacche potrei chiamarmi la sua figliola questa sarebbe una scena storicamente accurata grazie mille 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 Grazie a tutti